Comincia la settimana che ci condurrà al voto del 26 maggio per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Comincia l'insegna dell'agitazione, del nervosismo, delle frecciatine tra i due partiti di governo. Allora, quando siamo ormai a pochi giorni dal voto, vogliamo provare a capire qual è la griglia di partenza di quello che abbiamo chiamato il Gran Premio d'Europa, come vi arrivano le diverse forze politiche, chi è in pole position, quale pilota magari rischia il testa-coda. Lo faremo insieme ad Alessandra Sardoni, una delle parlamentariste più apprezzate e informate, inviata del TG della Sette. Benvenuta Alessandra. Grazie, buonasera a tutti. Come sempre partiamo dalle aperture dei telegiornali della sera, subito dopo la nostra sigla. Cominciamo. Tra poco un CDM è preceduto da forti polemiche. Conte, grave, mettere in dubbio la mia imparzialità. Salvini, piena fiducia in Presidente Di Maio, risorse per le famiglie, l'opposizione fanno solo spot. Conte, gravissimo, mettere in dubbio la mia imparzialità, lo facciano in Parlamento. Consiglio dei ministri in due tempi su sicurezza e famiglia. Tra mezz'ora un Consiglio dei ministri che si annuncia infuocato. Conte replica al sottosegretario leghista Giorgetti, che l'aveva accusato di stare con i 5 Stelle. Gravissimo, mettere in dubbio la mia imparzialità. Berlusconi, solo un centrodestra unito può governare il paese. Zingaretti prendono in giro gli italiani. Il Consiglio dei ministri si riunisce alle 20.30 e chiude una giornata di tensione del governo. Sul tavolo di Palazzo Chigi il decreto sicurezza B, svoluto da Salvini, che potrebbe non essere approvato oggi con l'ultima bozza che accoglie le modifiche proposte dai 5 Stelle. In ballo ci sono anche le misure per la famiglia, spinte da Di Maio, che invece apre sulla flat tax al 15% per i redditi fino a 90.000 euro. In Consiglio dei ministri il provvedimento sulle famiglie e il decreto sicurezza B, il Premier Conte, continuiamo a lavorare. Grave mettere in dubbio la mia imparzialità. E allora Alessandra, come ci stiamo avvicinando a queste elezioni europee di domenica prossima? Oggi un Consiglio dei ministri in due tempi, una fase preparatoria e un altro in corso di svolgimento. Consiglio dei ministri al quale il Premier è arrivato dopo aver subito un'ondata di critiche da parte della Lega. Soprattutto Giorgetti è stato trancià, non è di garanzia. Sì, allora è un Consiglio dei ministri in due tempi. In realtà il primo tempo praticamente non si è giocato, non c'erano né Salvini né Conte, c'era Di Maio che ha subito aggiornato la riunione. E quindi la riunione vera è oggi. Abbiamo assistito a un balletto, si deve fare, non si deve fare, rinviare, non rinviare. Però insomma, alla fine ci siamo. Certamente ci si arriva ed è anche l'inizio di quest'ultima settimana. Possiamo dire però che ormai è il mood che c'è da parecchio tempo con una tensione altissima tra le forze politiche. E per la verità, tu stesso e anche altri, spesso nel dare la notizia nella giornata di oggi, abbiamo sottolineato la novità di questo attacco di Giorgetti. Mi permetto di dire che non è tanto nuovo da parte della Lega, nel senso che noi abbiamo visto, già era già campagna elettorale, sia nel caso della TAV, quando Conte ha fatto la conferenza stampa, nella quale ha parlato da 5 stelle, quindi non ha fatto il mediatore, come ama dire. E soprattutto nel caso Siri, che è la cosa che veramente ha fatto molto male, perché si è preso la responsabilità di dire che quell'emendamento, oggetto di tutta la questione di Siri, in effetti era fatto solo per interesse di un imprenditore. Quelle affermazioni sono state brucianti, durissime, per la Lega. Addirittura hanno spinto l'avvocato ad intervenire e in quel caso, come nel caso della TAV, ci sono stati non Salvini, che anche questa volta, anche oggi è stato attento a non dirlo, ma nei retroscena e molti leghisti a viso aperto, oggi certo lo fa il numero due, il più autorevole, hanno detto che Conte non è imparziale. Conte per la prima volta si è indignato di questa affermazione e quindi la questione è risultata più esplosiva. Peraltro è esplosiva tutta in una maniera alla quale dobbiamo fare la tara della campagna elettorale, perché è ovvio che non è imparziale Conte. Conte è un esponente del Movimento 5 Stelle, ed è il Presidente del Consiglio tra l'altro, quindi la politica la fa lui, questa idea della mediazione fra due, di una imparzialità, non ha molto senso. Semmai c'è un suo minore impegno nella campagna elettorale, cosa che accade sempre di tenere un pochino a riparo il governo dalle campagne elettorali. Però è un po' una falsa questione questa. Quella della terzietà del Premier. Quello che assolutamente sì, non è quello, non è chiamato a fare quello, è lui che guida il governo, almeno formalmente. E come ci hai spiegato, il malumore nei suoi confronti già serpeggiava. Hai detto che bisogna fare la tara elettorale a quello che sta succedendo. Ecco, ti chiedo, quanto è reale dunque questo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, e quanto invece è elettorale? È elettorale, ma è anche reale. È tutte e due le cose. Naturalmente nasce dal fatto che la campagna elettorale per le europee, per la verità ormai anche per le politiche è così, perché dal mio punto di vista purtroppo ormai ci sono leggi elettorali proporzionali. Quindi con il proporzionale ognuno deve prendere il massimo. E questo stanno al governo insieme, ma ognuno fa per sé. Tra l'altro è molto importante per i 5 Stelle non perdere troppo, per la Lega consolidare un trend positivo, insomma che è stato forse anche un po' drogato mediaticamente dalla diffusione dei sondaggi. Però è anche reale, perché è reale che si è spezzato qualcosa, soprattutto con la questione morale, con il tipo di attacchi che sono stati però il cuore della forse, chi lo sa, rimonta, della comunque speranza di rimonta del Movimento 5 Stelle nei confronti della Lega. Quindi quella è stata una grande bruciatura. Lo è tutto sommato, lo è stato anche la TAV che citavamo prima, ma anche altri elementi, anche il rinvio di altre misure, e comunque sui migranti un cambio di tono totale. Se pensiamo al caso Diciotti, dove Conte, Toninelli, Di Maio hanno coperto totalmente non solo nel voto al Senato, ma contestualmente l'operato di Salvini e quello che accade sulla Sea-Watch, le cose sono un po' diverse. Oggi sentiamo parlare di decreto sicurezza bis, di decreto famiglia. Salvini ha nuovamente rilanciato la flat tax europea, una campagna, la flat tax con aliquota unica, una campagna elettorale che di europeo ha solo il nome però, perché i contenuti sono uno... si parla di tutt'altro insomma. Si parla di tutt'altro, per la verità lo diciamo a ogni elezione, ogni ondata di elezioni europee, però d'altra parte è un po' nella nostra tradizione ed è così nel gioco politico, anche le elezioni amministrative vale per tutti, tutto diventa un test dei rapporti di forza interni o anche delle possibilità per l'opposizione. Quindi un pochino è fisiologico. Certo è un paradosso, ne parlavamo prima di entrare in studio proprio con te e sono d'accordo con quello che dicevi e cioè ai telespettatori, che in realtà paradossalmente di Europa si è parlato molto di più, lontano dalla campagna elettorale per le elezioni europee, tutto nella fase della manovra, ma anche nel momento della costruzione di questo governo giallo-verde. Qui invece ci sono state le frenate, sia nel DEF, che contiene dei numeri molto diversi dalle sparate che sono state fatte, e sia poi per quanto riguarda le previsioni, l'attacco all'euro, l'euroscetticismo. Allora adesso ci vediamo le altre notizie del giorno. In un giro di titoli abbiamo voluto far cominciare con la notizia che ha modesto parere di chi vi parla, penso che anche Alessandra sia d'accordo, però è forse la notizia più importante, sicuramente più bella della giornata. E poi, sempre con l'aiuto di Alessandra Sardoni, facciamo il test, tastiamo un po' il polso alle diverse forze politiche quando ormai siamo alla vigilia delle elezioni europee. Gli altri titoli. Noemi fuori pericolo, i medici hanno sciolto la prognosi per la bimba ferita nell'agguatto di Napoli. È un miracolo, ringraziamo tutti, dicono i nonni, che erano con lei quando il killer ha sparato. Nubi fragi, allagamenti e muri di neve, il maltempo continua a far danni, Emilia inondata, strade ricoperte dal fango nel Bolognese, a Borgo Tossignano, cede la collina e distrugge una casa in Veneto, la frana di Alpago fa paura, mareggiate sulle coste, fiumi sotto osservazione, il Po si è innalzato di un metro in 24 ore. Google applica la sanzione di Trump e mette al bando Huawei, il colosso della telefonia cinese non potrà accedere agli aggiornamenti di Android e delle applicazioni della casa americana. Mattarella ricorda Massimo D'Antonio, ucciso 20 anni fa dalle BR, obiettivo della Repubblica è sanare le fratture della società. Tensione anche sul caso della Sea-Watch, dopo che la decisione dei giudici di sequestrare la nave e far sbarcare i migranti. Il comandante è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Salvini bene se serve a bloccare la nave, Di Maio la lega è nel pallone. Tempesta sul governo austriaco, poco fa si sono dimessi, tutti i ministri del Partito della Libertà, la formazione di estrema destra che sosteneva l'esecutivo del cancelliere Kurz. La decisione dopo il passo indietro di Strahe, il vice di Kurz, il leader del partito, travolto dallo polemiche per il famoso video che lo mostra promettere a palti pubblici una presunta ereditiera russa in cambio di aiuti elettorali. Una vicenda dai contorni oscuri, non si capisce chi ha tirato fuori questo video con questa tempistica perfetta. Ora Kurz dovrà traghettare il governo verso nuova elezione a settembre. E allora, come dicevamo prima, cominciamo a passare un po' in rassegna lo stato di salute delle diverse forze politiche alla vigilia del voto europeo. Cominciamo dalla Lega. Beh, se fosse una gara di comunicazione avrebbe sicuramente il vento in poppa. Alessandra, cioè si parla molto di Salvini, quasi tutti i giorni, quasi solo di Salvini e penso che questo non gli dispiaccia. No, certamente è un effetto voluto. Si parla di Salvini però anche tanto di Di Maio, diciamo che hanno entrambi monopolizzato e preso la scena. Quello che è successo però è che abbiamo assistito a una prima sconfitta politica proprio sul caso Siri con Salvini e su tutto questo tema della questione morale, anche dal punto di vista della comunicazione. Diciamo il cambio di segno della campagna elettorale l'ha dato i Cinque Stelle passando a fare l'opposizione proprio come se non fossero al governo insieme a Salvini. Quindi adesso sarà interessante. Qualche colpo l'ha accusato la Lega. Probabilmente sì, dopodiché naturalmente c'è stata la grande manifestazione. C'è il caso Sea-Watch dove pure Salvini registra una sconfitta perché dal suo punto di vista sono sbarcati. Però è anche un riportare nell'agenda, che poi è lì che si gioca anche chi impone il tema, in agenda ha riportato in primo piano il tema dei migranti che è quello che preferisce. Veniamo al Movimento 5 Stelle. Come ci spiegavi ha preso di petto la Lega cominciando a fare nei suoi confronti opposizione dura e c'è stata anche una svolta moderata, non so quanto scenografica. Sì, sul tema dell'Europa. Si preoccupano dello spread adesso? Si preoccupano dello spread, però bisogna vedere poi se in realtà è abbastanza convincente, sufficientemente convincente, perché mentre la svolta di opposizione dura è anche l'occhieggiare a sinistra, che hanno preso sapendo che la scena sulla destra era totalmente occupata e quindi sono rivolti a sinistra, il tema invece di politica economica, bisogna pure, devono ipotizzare che gli elettori siano molto smemorati, perché in realtà chi ha voluto, chi ha sostenuto lo sforamento, non del 3%, ma insomma quasi, quel 2,4% che abbiamo pagato con lo spread in tutto l'autunno è stato proprio il balcone, ce lo ricordiamo tutti, è stato Di Maio. Cioè lo spread dell'autunno, quei mesi lì che pesano ancora molto sui nostri conti, quei mesi lì sono più dei 5 stelle, poi ripeto è tutto collegiale, però sono dei 5 stelle. Veniamo ai partiti dell'opposizione, che anche per forza di cose, anche un po' per com'è fatta la comunicazione, stanno un po' a guardare come le stelle in questo periodo. Il Partito Democratico, Zingaretti, cerca di tenere tutte le anime insieme, si vede proprio una fatica fisica per tenere tutti insieme, la novità è calenda che forse non tutti in seno al PD apprezzano, però forse è il fattore nuovo di questo voto. Sì, sicuramente Zingaretti sconta da una parte il fatto che l'opposizione, come abbiamo detto prima, la stanno facendo all'interno del governo, quindi hanno meno spazio. È anche vero però che forse a Zingaretti questo non dispiace del tutto, perché qualsiasi è vero che c'è un silenzio, un'afasia, una difficoltà di esprimere posizioni politiche della sinistra in generale, però è anche vero che per Zingaretti è molto importante tenere tutti insieme, forse è più importante di tutto, anche perché il congresso è stato tardivo, non c'è stato tempo di mettere a punto un programma, una proposta più forte, quindi la proposta sta nella pacatezza, nella calma, in una sensazione di unità e non di rissa interna che il PD purtroppo ha comunicato. Calenda sta lì dentro, serve perché serve anche a guardare anche a un elettorato più moderato e più centrista. I conti poi si faranno dopo l'europeo, così come i conti dopo l'europeo si faranno in casa Forza Italia, dove si agitano un po' gli aspiranti alla successione di Berlusconi, da Mara Carfagna a Tajani, allo stesso Toti, che sembra il più vicino alla Lega in questo momento. Sì, perché il tema lì è proprio i rapporti, le relazioni pericolose più o meno, ma anche però necessarie con la Lega. C'è una parte di Forza Italia che magari non vede l'ora di passare dalla parte di Salvini, un'altra parte che fa i conti con un leader comunque in campo, è candidato Berlusconi, è forte alla sua storia, è Forza Italia, e però con una transizione che necessariamente ci dovrà essere. Tutto questo è difficile e anche sanguinoso, anche se pure su Forza Italia vale un po' il discorso del PD. Comunque la scena è occupata. Vediamo qualche altro attore in gioco. Ecco, abbiamo due donne, Giorgia Medoni e Emma Bolino, più Europa e Fratelli d'Italia. Quali sono le altre partite di questo voto europeo? Ci stiamo dimenticando qualche protagonista? Beh no, sicuramente Giorgia Meloni è un protagonista importante, importante anche in vista di sviluppi futuri, di possibili alleanze anche dopo, che cosa succederà, tanto che anche Giorgia Meloni ha fatto una mossa proprio ieri, interessante, in questi giorni, in chiusura di campagna elettorale, nel dire non con Forza Italia, insomma nel porre il suo rapporto di alleanza esclusivamente con Salvini e quindi insomma quello può essere, poi Giorgia Meloni sicuramente supererà la soglia all'europea e quindi quello può essere un bottino interessante, un interlocutore interessante per Salvini, soprattutto in quella veste. Emma Bonino naturalmente presidia una zona, un'area, come dire, di opinione molto forte, bisognerà vedere se riuscirà a superare la soglia del 4%. Un'ultima cosa, un flash, qual è la prima cosa, il primo dato che guarderai e a cui presterai attenzione quando avremo qualche risultato il 26 maggio? Eh beh, le cose sono due naturalmente, il risultato, diciamo, la forbice tra la Lega e i 5 Stelle e soprattutto se i 5 Stelle, se il PD riuscirà a fare il sorpasso, anche se fosse dello 0,1% sui 5 Stelle, quella potrebbe essere il vero traguardo e il vero obiettivo per Zingari. Grazie ad Alessandra Sardoni per essere stata con noi questa sera, grazie a voi che ci avete seguito da casa, prosegue il nostro avvicinamento al voto europeo, stiamo sentendo sui temi dell'Unione Europea, sulla posta in gioco in questa tornata elettorale, sulle visioni nuove di cui ha bisogno l'Europa, i direttori dei quotidiani italiani, stasera è la volta del direttore della stampa, Maurizio Molinari. Ascoltiamolo e se volete ci ritroviamo domani. Ciao. Angela Merkel recentemente ha dichiarato che l'aver assicurato un così lungo periodo di pace non basta più a rendere attrattiva l'idea di Europa. Perché? Perché ciò che aggredisce la sicurezza del ceto meridio oggi non sono conflitti armati, ma sono le diseguaglianze economiche e i migranti, ovvero un senso diffuso di disagio, di carenza di speranza, uno stato d'attimo negativo per quanto riguarda la propria vita, il proprio lavoro, la propria occupazione, quella dei propri figli, dei propri nipoti, e l'insicurezza derivante dalla carenza di integrazione dei migranti. La chiare di fondo è sempre la protezione dall'insicurezza. All'epoca, dopo il 1945, questo significava proteggersi dai conflitti. Oggi significa proteggersi da questi nuovi rischi per il ceto medio. La dinamica è la stessa, cambia la dinamica della sicurezza. E su questi due fronti l'Europa è in ritardo. Ecco, su questi due temi cosa ha da rimproverarsi l'Europa? Ma sicuramente sui migranti l'errore che è stato fatto nel 2013 dopo l'emergenza dovuta dall'arrivo in contemporanea dalla Siria e dalla Libia di un numero molto alto, inconstitutamente alto rispetto ai precedenti europei, è stato di non agire assieme, cioè di lasciare i paesi responsabili di politiche nazionali. Perché questo ha innescato all'interno dei singoli paesi dei dibattiti che hanno favorito posizioni estreme nazionaliste. Se l'Europa avesse deciso assieme un'unica regola per tutti, chi accogliere quando e perché, tutto questo non sarebbe avvenuto. Quindi lì la responsabilità è stata l'incapacità di agire assieme. Sul fronte delle disuguaglianze molto peggio, perché la realtà vera è che le disuguaglianze del ceto medio non sono state mai affrontate dall'Unione Europea in quanto tali. L'Unione Europea usa ancora come metro quello dell'impoverimento, che è un metro del Novecento, mentre invece le disuguaglianze hanno a che vedere con la necessità, ad esempio, di riqualificare quelle migliaia di persone che vengono espulse dal mercato del lavoro perché vengono i robot. Quindi sono nuove difficoltà, nuove sfide, che investono anche persone che hanno redditi e che hanno proprietà, non solamente che sotto il livello di proprietà. Su questo tema, semplicemente, l'Unione Europea non c'è. La polarizzazione tra sovranisti ed europeisti non finisce forse per agevolare i sovranisti stessi perché si finisce per regalare loro totalmente il campo della critica all'Unione Europea? Assolutamente sì. Il campo europeista deve avere in mente un dato. I sovranisti o i populisti che siano non vivono di luce propria, non sono votati perché sono portatori di programmi, sono semplicemente portatori di una risposta emotiva alle emergenze della diseguaglianza e dei migranti. Le loro risposte sono l'identificazione di avversari. I migranti, la colpa è dei migranti o della Francia o della Germania che ce li fanno arrivare. Le diseguaglianze è la colpa della globalizzazione, delle grandi imprese, delle grandi istituzioni, dei giornali, dei borghesi, del vicino di casa. Sono risposte che hanno una narrativa negativa. I partiti tradizionali per rispondere a questo dovrebbero avere una narrativa positiva, ovvero dare delle risposte chiare a questi problemi lampanti di fronte a tutti noi. Guardate che anche quando Papa Francesco parla degli scattati, come quando Trump parla dei dimenticati, stanno parlando della stessa tipologia di persone, stiamo parlando di persone che appartengono alle famiglie del ceto medio, si sentono aggredite dall'impoverimento e i partiti tradizionali non si occupano di loro. Se i partiti tradizionali che difendono l'idea dell'Europa si vogliono imporre sui populisti, devono elaborare nuove politiche per proteggere il ceto medio. Se no, vinceranno ancora i populisti. Nei primi 100 giorni, che cosa dovrebbe fare la nuova governance europea? Io credo che dovrebbe darsi delle regole unanime sui migranti. Punto primo. Punto secondo, credo che dovrebbe affrontare la questione del clima. Perché guardate, se noi facciamo attenzione ai giovani, il tema della difesa dei cambiamenti climatici è ovunque nelle loro vite. I cambiamenti climatici non c'erano nella generazione passata. Non c'erano tornado che distruggono le città in Europa o mareggiate, come è successo a Portofino, che distruggono un porto. La realtà vera è che nell'Europa di oggi chi vive lungo i corsi d'acqua ha dei pericoli che prima non c'erano. Allora, avere l'Europa che si interessa di queste popolazioni e che elabora delle disposizioni, delle direttive per proteggere i cittadini da una nuova tipologia di rischi, secondo me avrebbe un impatto molto profondo. Grazie a tutti.